Attenzione! Avete un problema col caro bollette? Avete un problema con un contratto precario? Col vostro salario siete sottopagati? Non vi dovete più preoccupare di nulla. La Meloni ha trovato la soluzione per tutti i vostri problemi. Stanno decidendo di innalzare la soglia del contante sino a 10.000 euro, già dalla prossima legge di bilancio. E sì, perché il vostro problema è stato sempre quello di poter girare con 10.000 euro di contante. Ovviamente, d'ora in poi lo potrete fare portandovi la vostra valigetta e il vostro zainetto, perché è chiaro che i rotoloni di banconotte sino a 10.000 euro li potete infilare nelle vostre tasche, nelle tasche di pantalone o della giacca. La Meloni giustifica questa soluzione a tutti i vostri problemi dicendo che addirittura aiuterà i poveri, perché il problema dei poveri, in effetti, è poter girare legalmente con banconotte sino a 10.000 euro di contante. Torniamo seri e parliamoci chiaramente. Questa misura finirà per agevolare solo evasori e corrotti. Tra l'altro la Meloni dice che non c'è collegamento tra innalzamento della soglia del contante ed evasione. Non ha letto il report della Banca d'Italia. Il primo dovere di un Presidente al Consiglio è studiare bene le materie, studiare bene i dossier. Se partiamo in questo modo, in avvio della giuratura, partiamo proprio male.